Dottor Cavallaro, dopo il successo ottenuto dall'ambulatorio medico di Borgomanero, che è stato inaugurato nel 2014 e di cui ha parlato anche la stampa nazionale, ora una nuova sfida con l'ambulatorio di Vercelli. Sì, noi siamo molto contenti di questa iniziativa da parte di tutte le istituzioni vercellesi che si sono riunite per far andare a buon fine questo progetto di ambulatorio sociale. Il nostro non è un ambulatorio caritatevole, è un ambulatorio sociale e spero che anche questo ambulatorio qui diventi un ambulatorio con queste finalità. Chi lavorerà in questo ambulatorio? Ma lavorano degli specialisti sostanzialmente, oltre a un corteo di infermieri e tecnici di sostegno, ma l'ambulatorio è fondato soprattutto su specialisti medici. E a chi sarà rivolto quindi? L'obiettivo principale è quello di garantire un'assistenza a persone che normalmente o rifiutano di curarsi perché non ne vedono la necessità o praticamente non ce la fanno a curarsi perché è per tutta una serie di problemi che vanno dalla situazione economica, dal fatto che magari hanno perso il lavoro, magari non riescono a sostenere una spesa semplice come quella del ticket. Chi lavorerà in questo ambulatorio? Ma lavorano degli specialisti sostanzialmente, oltre a un corteo di infermieri e tecnici di sostegno, ma l'ambulatorio è fondato soprattutto su specialisti medici. A Vercelli partirete con otto medici e sei infermieri, tutti volontari e anche un medico dentista. Sulla base dell'ambulatorio di Borgomanero, che quattro anni fa partì con due soli medici, ma la cui attività è esplosa, ora sono 24 i medici che lavorano attivamente presso questo ambulatorio. Ecco, lei si aspettava un successo così? Ma onestamente no, anche perché Borgomanero è una realtà molto più piccola che quella di Vercelli. Poi siamo partiti da otto anni, è un lavoro che dura ormai da otto anni e piano piano gradatamente siamo arrivati ad avere 24 specialisti, a cui si sono aggiunti recentemente una decina di medici odontoiatri, per cui abbiamo raggiunto una dimensione veramente grandiosa. E potrebbe stendersi anche altrove questo progetto secondo lei? Sì, già alcune realtà si sono fatte vive, ci hanno avvicinato per prenderci come modello più che altro e so che stanno lavorando per la costruzione di un tipo di ambulatorio molto simile. Però devo dire che Vercelli è la prima esperienza che giunge a buon fine e di questo siamo molto contenti. E noi vogliamo mantenere questo collegamento che abbiamo avuto fin dall'inizio della progettazione dell'ambulatorio con le istituzioni, con l'Auser e con l'Asl. Vogliamo mantenere questo rapporto di collaborazione anche per il futuro, magari scambiando non solo i progetti, le informazioni o le strumentazioni, ma soprattutto scambiandoci gli specialisti. Grazie e buon lavoro.